Ciao, sono Roberta. Oggi vedremo assieme i prodotti novità che sono raccolti nelle pagine 24 e 25 del catalogo delle soluzioni Idro Base Group. Idro è una idropulitrice professionale ad acqua fredda made in Italy. Alcune caratteristiche salienti sono il motore 1450 giri al minuto e una robusta struttura in acciaio cromato, ed è quindi perfetta per un utilizzo continuativo. Ecco la soluzione per neutralizzare gli odori delle isole ecologiche di bar, ristoranti ed hotel. Si tratta di un sistema in due fasi, suo industriale per neutralizzare gli odori con un impianto di nebulizzazione FOG 25 quando i cassonetti sono pieni. Sovio invece si utilizza con uno sprayer per eliminare gli odori quando i cassonetti sono vuoti. Scopri con i ricambidolli del club dei riparatori quanto è facile trovare migliaia di articoli che comprendono accessori e componenti compatibili per riparare qualsiasi pompa per idrolavaggio e idropulitrice in commercio. Gli arredi da esterno, Enjoy Your Life, Night and Day e Osi del fumatore sono una linea completa che illumina, riscalda e rinfresca. Una delle novità più importanti è il kit luci multicolor. Potrai infatti personalizzare colore e tipologia dell'illuminazione, il tutto comodamente tramite un'app per smartphone. Interessante novità il FOG Extra, modulo misting made in Italy dotato di timer, termostato, umidostato e programmatore settimanale. È la soluzione professionale per rinfrescare, creare effetti scenografici, umidificare e abbattere polveri e odori in aree di piccole e medie dimensioni. La Lancia Schiuma Piuma è una nuova versione brevettata di Lancia Schiuma, molto più leggera dei modelli classici e con tre livelli di erogazione schiuma. Piuma è disponibile sia nella versione in ottone che in alluminio e ha il vantaggio di essere compatibile con oltre il 90% delle idropulitrici che sono presenti nel mercato. Le pistole Red 60 e 40 sono concepite secondo i più moderni criteri ergonomici e quindi sono particolarmente adatte a chi utilizza questi strumenti in maniera continuativa. Sono l'unione tra la qualità del made in Italy e l'attenzione al comfort. Scopri come è facile lavorare grazie ad una leva più morbida e una protezione della mano maggiorata. Le versioni speciali di Hidro, Stella e Transformer che presentano una pompa Interpump di serie sono tra le novità più interessanti del catalogo Hidrobase Group. Alle pagine 24 e 25 del nuovo catalogo delle soluzioni ci sono questi e molti altri prodotti novità.